Gallerie solo trascurate dalla mancata manutenzione, ben 15 anni dall'arretramento della ferrovia adriatica, ma che non presentano fortunatamente danni strutturali e quanto afferma l'architetto Francesco Faraone, direttore dei lavori lungo la Via Verde, che a metà di agosto vedrà l'ufficiale fruizione nel tratto che da Torino di Sangro arriva l'Acqua Bella di Ortona, proprio all'imbocco della galleria più lunga dell'intera pista ciclopedonale di due chilometri e mezzo sottostante un'importante falesia che purtroppo è oggetto di continui croli. Le gallerie non saranno percorribili in attesa dell'inizio dei lavori di ristrutturazione che però non saranno particolarmente complicati, solo in tonaci e rivestimenti nelle parti più ammalorate, bonifica delle infiltrazioni d'acqua, illuminazione all'interno, lavori che seguono accurate indagini e perizie ed ispezioni che non hanno rilevato particolari criticità. Lungo l'extracciato ferroviario sono presenti otto gallerie che saranno completamente messe in sicurezza al massimo entro il mese di ottobre. Fino alla fatidica data restano però transennate mentre ciclisti e pedoni le continuano a percorrere. L'architetto Francesco Faraone. Siamo ottimisti su questo discorso delle gallerie. L'impresa ha voluto appunto una rimodulazione perché in effetti queste gallerie erano state sempre chiuse dal momento sin dalla riconsegna delle ferrovie e quindi sostanzialmente una rivisitazione globale era opportuna. E quindi fiduciosi di questo speriamo di riconsegnare questa importante opera e la provincia, tutti noi abbiamo fatto in modo da seguire costantemente questi lavori con vera passione. Speriamo che l'impresa non ci abbandoni nel senso che tenga appunto questo cronoprogramma importante che noi appunto entro ottobre vorremmo concludere.